Con il modulatore FM P&E V880 puoi ascoltare la tua musica preferita, ma puoi anche usarlo come kit audio per la tua auto grazie alla connessione bluetooth con il tuo telefono cellulare. Il microfono incluso attraverso la funzione attiva di riduzione del rumore garantisce una trasmissione vocale chiara e accurata. Collega il tuo cellulare al modulatore FM e sarà in grado di rispondere alle chiamate in un sistema a viva voce. P&E V880 include due porte USB per la riproduzione di musica e la ricarica rapida di dispositivi mobili. Una delle porte USB di 5V 1A è progettata per caricare o leggere un disco USB. L'altra è la porta di ricarica rapida QC 3.0 che può caricare i dispositivi mobili quattro volte più velocemente delle normali porte di ricarica.